Sono documenti storici rari che raccontano storie di vita lungo i secoli, quelli restituiti dalla sede della Fondazione Banco di Napoli, dal comandante del Nucleo per la tutela patrimonio culturale di Napoli, Maggiore Gianpaolo Brasini, alla presidente della Fondazione Rossella Paliotto. La documentazione, circa un centinaio di bancali, copre un arco temporale che va dal 1615 al 1935. Le tecnologie possono aiutarci moltissimo nel tracciare alcune opere d'arte o come nel nostro caso i documenti che vengono sottratti. Quindi attraverso un'attenta osservazione dei siti internet nei quali avvengono compravendite di oggetti più svariati, a un certo punto su ebay abbiamo trovato delle nostre copie a polizze che venivano messe in vendita. L'indagine deriva da una denuncia circostanziata da parte della Fondazione Banco di Napoli. Questa riprova del fatto che noi chiaramente operiamo sul monitorare i mercati illeciti delle opere d'arte ma anche su segnalazione dei privati, in questo caso della Fondazione, che ci ha segnalato la vendita di alcuni documenti che potevano appartenere alla loro fondazione su piattaforma ebay. Noi abbiamo fatto ovviamente i dovuti accertamenti, indagini del caso, abbiamo individuato i soggetti, abbiamo, grazie alla coordinazione della Procura della Repubblica di Napoli, che ha emesso dei decreti di perquisizione, siamo arrivati, siamo giunti a queste abitazioni all'interno delle quali abbiamo trovato i beni oggetto di furto.